Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video particolare oggi sono in veste di giornalista diciamo così insieme a me come potete vedere Giuseppe Mazzei ciao Giuseppe Ciao Fabrizio e ciao a tutti ragazzi Allora ragazzi è la prima volta che faccio un'intervista così che ce la inventiamo così con Giuseppe ti devo presentare ovviamente quindi Giuseppe Mazzei che è il titolare del centro di simulazione di Cosenza e l'ho conosciuto grazie a Santo di Simulife e ci siamo fatti una chiacchierata circa una settimana fa e gli ho proposto questa stranezza di fare un'intervista una chiacchierata in primis tra due appassionati di simulazione ovviamente lui ne ha fatto praticamente un lavoro ragazzi il sogno di tutti noi appassionati sai il 14enne che c'è dentro di te no Giuseppe? Cazzo un centro di simulazione quindi lui è un altro di quei personaggi che ci fa sognare quindi Giuseppe io ti chiedo prima di presentarti da dove ti è uscita questa idea di fare un centro di simulazione a Rende in provincia di Cosenza? Follia partiamo da questo e cerchiamo insomma di ridurre tutto in un termine follia in realtà considera che io ho iniziato a correre sui kart prima ancora di imparare a leggere e scrivere ovviamente fatti 10-11 anni c'è da fare un salto di categoria che richiede ovviamente dei costi i miei mi hanno guardato hanno detto beh ti sei divertito? saluta e quindi ho ripiegato sui simulatori da quando avevo 11-12 anni ok io ho iniziato pian piano ad avvicinarmi a questo mondo e ho sempre diciamo coltivato all'interno di me quel senso di se ci fosse una sala che mi permetterebbe di incontrare e riconoscere altre persone con questa passione io sarei 24 ore su 24 lì ed è da questo che poi è nato sempre coltivata all'interno questa idea per tanti anni devo essere sincero tanti anni fin quando poi inizio 2020 ho avuto la possibilità di realizzarla l'ho fatta ma appena aperto ho chiuso per il covid ma quello è un altro discorso la nuvoletta di Pantozzi che è lì senti io vedo dietro di te una playstation quindi sei un vecchio giocatore ma la domanda che mi viene subito così ah si c'è pure la Nintendo esatto il Nintendo il NES la domanda è qual è il primo simulatore? qual è il simulatore che ti ha fatto innamorare di questo mondo? dammi un attimo eccolo qua guarda qua Grand Prix 2 questo è stato diciamo il primo vero titolo sul quale ho passato migliaia di ore tutte e per tutto Giuseppe scusami ti interrompo ma io ho avuto forse uno dei primi prototipi di volante dove dentro il false feedback era realizzato da hai presente quegli elastici che si mettono per i copri ok quello c'erano due pulegge tu gira e tornava al centro da solo c'è quello quello là quello là l'ho avuto anche io e mi ricordo la particolarità è che eravamo senza pedaliera e quindi utilizzavo i pad dietro per accelerare e per frenare anch'io quasi mi ricordo mi ricordo questo è bellissimo le prime serate l'anno che si facevano cioè stiamo parlando come vecchi c'è dei boomer non so i ragazzi che ci guardano guarda Fabri ma ma è probabile che forse sotto sotto lo siamo poi sì però 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 sempre bambini dentro perché se tu tu qua non vedi però c'è postazione cose se tiro fuori ci sono dei vecchi cose degli anni 8 anzi ti posso vedere una cosa molto vecchia se vuoi anche io dai non ti dico la data che mi vergogno ma The Game Machine ragazzi cioè non esiste cioè questi vecchi vecchi anzi questo che anno è cioè ci sono 6.000 lire l'avevo pagato 6.000 lire ragazzi ma di che stiamo parlando e c'è tutta una collezione lì ma sarà forse degli anni 2000 98 97 quindi ti capisco e quelli sono i giochi che hanno che ti facevano veramente appassionare io mi ricordo Indy 500 ragazzi che si vanno i pixel grossi quanto la mia testa bellissimo ma non so Fabri se ti è mai capitato di riprendere in mano un vecchio gioco insomma anche il primissimo Gran Turismo e a distanza di anni magari io ricordo quando è uscito Gran Turismo 2 wow com'è bello dettagliato la grafica super quello arrivi a distanza di anni e dici ma veramente sta cosa era sì cos'era ma perché ovviamente tu ti abitui a quella che è la tecnologia del momento però io ho un ricordo bellissimo di Gran Turismo 4 perché in particolare che non era ovviamente era la quarta edizione sai perché? perché l'ho giocato tantissimo con i miei amici c'era il momento in cui ci ritrovavamo e c'era il mega schermo si giocava Gran Turismo 4 dietro c'era tutto pronto per mangiare i carabresi come siamo quindi le mangiate e si andava fino a tarda notte e poi quando sono arrivati i primi PC ovviamente sono arrivati i Grand Prix eccetera quindi è stato è stato un bel periodo veramente parlavi di pazzia parlavi di passione io so qualcos'altro però che ultimamente ti ha fatto accendere ancora di più la passione avete ospitato un campionato tutti i centri di simulazione in Italia mi hai parlato di questa cosa qua e ho sentito una fiamma ragazzi che si accendeva non l'ho visto quando mi parlavano dagli occhi che gli brillava tu un minuto racconta quello che è successo l'ultima gara perché i ragazzi impazziranno secondo me allora facciamo un'introduzione diciamo velocemente che era un campionato solo destinato ai centri di simulazione quindi tu lo vuoi correre non corri da casa tua devi andare a un centro di simulazione quindi con tutte le difficoltà di adattamento a delle periferiche non tue intanto piccola parentesi ci sono ovviamente tutti i centri di simulazione che hanno delle proprie configurazioni ma anche la seduta diversa quella fa tantissimo ma soprattutto non corri in camera tua ma corri avvolto da 15-20 persone sempre dietro di te a guardare a osservare quindi le emozioni sono totalmente diverse ragazzi lì è come vivere il paddock in tutto e per tutto qualsiasi centro di simulazione vai è simracing 2.0 in tutto con il live ragazzi il team manager che gli va da spiegare gli dice dove come non è i giri i consumi eccetera quindi considerate la messa in scena che dovete essere sono seduto non sono a casa mia sicuramente fa un caldo pazzesco perché ci sono 50 persone che sono lì ti osservano sei emozionato più il team manager dice aumenta il ritmo c'è anche c'è anche chi fa il vero e proprio ingegnere di pista che ti dice oh guarda che devi guadagnare due secondi e mezzo nei prossimi regiri che dobbiamo rientrare è un'emozione totalmente diversa noi siamo arrivati dopo sei gare endurance all'ultima gara con ben quattro team che si stavano giocando il campionato uno da Avellino che era il team 3D Rapp che sicuramente conosci dell'omonima azienda quello di ciao beniamino ciao beniamino quello di box 33 di Lecco avevamo noi il team FPS che correa qua da Cosenza e il team Deco invece da Franciacorta quattro team in pochissimi punti il succo è stato che all'ultimo cioè la gara si è decisa soltanto negli ultimi 30 minuti mamma mia dopo quante ore dopo 12 ore e quante gare quante gare 6 gare da quanto mediamente 6-8 ore immagina mamma mia noi siamo arrivati gli ultimi 30 minuti che non avevamo la minima idea di chi avrebbe vinto da una parte i Deco stavano rimontando i box 33 che avevano messo le soft sperando di farle durare un'ora e dieci cioè una follia dall'altra parte il team FPS Italia che stava sempre lì forse c'era un po' arretrato il team 3 di Rapp e quindi sono arrivati a giocarsi effettivamente in bagarre quattro team perché c'era anche un terzo che era il team Iron Plus negli ultimi tre giri quattro team in un secondo e mezzo per giocarsi la vittoria di un campionato partito dieci mesi prima all'ultimissima gara agli ultimissimi giri immagino il pelo che si è arrizzato così le emozioni mamma mia allora guarda al di là del risultato immagino chi ha partecipato come si è dovuto sentire in quegli attimi non si sa dove e poi quanto è stato il distacco alla fine di poi alla fine sono arrivati due secondi due secondi ragazzi dodici ore è un deve essere stata pazzesca allora la domanda la domanda ovviamente ci sarà un altro campionato di questo genere qua ce ne sono tanti di campionati non solo di questo genere anche altri di formazione per chi si avvicina le prime volte perché ovviamente questo è un campionato che ti mette alla prova ok mentre invece ci sono altri campionatini un po' più soft ogni centro comunque si occupa anche della formazione di piloti da zero quindi diciamo che il consiglio è quello di rivolgerci ai centri quello più vicino a casa tua vai a vedere vai a spolciare e vai a parlare come tu sei andato da santo lì a Messina che salutiamo in tutto questo ciao santo ma in realtà ci sarebbero da salutare tutti se ci mettiamo qua ciao a tutti i centri ciao a tutti i centri ciao a tutti Italia possiamo dire per me è stata una bellissima esperienza voglio assolutamente ripetere da santo perché sono stati super accoglienti e ovviamente se passo da Rende non so un salutino te lo vengo a fare tu sei il benvenuto se vuoi portare anche compagna compagna amici amiche siete ospiti miei mamma e aspettavo ovviamente ci ci troviamo a Rende poi non so se c'è qualche tuo follower da youtube allora follower si molto probabilmente perché molti mi hanno detto cavolo eri a Messina quindi l'invito ovviamente ragazzi se volete ci armiamo a gruppi facciamo autobus andiamo a Rende ovviamente la cosa che ci interessa a noi è mangiare te lo dico subito vabbè dai siamo tutti del sud Italia siamo abituati a questo non c'è problema però l'invito al fatto di magari perché no fare una giornata così che ci vediamo la possiamo estendere quando decidiamo una data abbiamo youtube che ci dà una mano per cercare di organizzare questa cosa qua perché no sarebbe per me un enorme piacere figurati venire a incontrarti fisicamente di persona chi condivide la nostra passione ragazzi è sempre qualcosa di meraviglioso e raccontarlo su youtube ma perché no ci mancherebbe anzi ben venga oltretutto so che siete stati seguiti per tutto il lungo del vostro percorso del campionato da un gruppo di ragazzi che fa live bravissimi che puoi nominarli anzi ti prego si nerd dream trattino basso it su twitch che in realtà è una fumetteria di roma ma la qualità delle loro dirette e il coinvolgimento 12 ore intere guarda che non è facile e questa cosa qua quando me l'hai detto ho detto tanto di cappello io faccio al massimo due ore dopo un po' scoppio questi 12 ore quindi io gli faccio un applauso veramente e comunque su tutte le gare che avete fatto quindi sono stati veramente bravissimi io ho seguito un po' di live devo dire la verità anche perché per capire cosa fanno come lo fanno per cercare di migliorarmi ovviamente e sono veramente molto bravi hai ragione quindi io li saluto e saluto il loro la loro performance per tutta la durata di questo campionato consiglio consiglio è quello di andare sul sito web simracing.cloud magari lo lasci sotto in descrizione ok c'è la pagina chi siamo con tutti i centri e quindi potete informarvi un attimino qual è quello più vicino a casa mia alla fine stanno stanno crescendo di numero quasi ogni regione ormai ne ha almeno uno quindi inizia a essere anche abbastanza comodo per un appassionato incrociare altre persone con le quali condividere questa passione avere un tutor avere chi ti guida in base a tutti i livelli non solo noi abbiamo parlato di neofiti ma anche piloti molto esperti comunque li hanno sempre una sfida maggiore e un aiuto che non è da trascurare allora io una domanda che mi torna spesso rispetto al centro di simulazione ti dico in privato mi chiamo Fabio ma perché il centro di simulazione per fare un parallelismo un attimino con il calcio di quello che è un centro di simulazione e tu quando fai delle competizioni da casa tua è un po' come se andassimo a giocare io e te nel campetto sotto casa ok andare in un centro di simulazione invece fare la stessa partita io e te però magari a San Siro con 20.000 persone che ti ti fanno il tifo ok e questa è la grande differenza secondo me non sta neanche nelle periferiche ma sta nel sociale bene bene noi abbiamo avuto anche due psicologhe che insomma stanno lavorando per far uscire uno studio proprio relativo ai centri di simulazione come strumento di aiuto per i ragazzi che si sono un po' chiusi in casa post covid proprio per reimmetterli nella in quella che è la società però senza diciamo mai farli uscire totalmente dalla comfort zone quindi riescono riescono molto questo è un gran bel valore cioè vedi questa è una cosa in più che potrei dire la prossima perché il covid eccetera quindi le psicologhe bene mi piace questa informazione e poi se si rende utile in questo senso qua anche a livello sociale dopo il trauma comunque covid ben venga allora Fabrizio facciamo così vieni a trovarmi e vediamo anche se qualcuno da questo video viene lì al centro i primi cinque gli diamo un'ora gratuita va bene? grazie devono presentarsi dicendo ho visto il video da Fabrizio sono qui per il buono fine ragazzi i primi cinque lì arrende andate ho visto il video di sim drivers Fabrizio c'era anche tu Giuseppe quindi un'ora gratis ragazzi grazie Giuseppe per questa tua iniziativa grazie a te molto gentile ci vediamo sicuramente grazie infinite per la tua disponibilità per questi tuoi racconti per aver condiviso la tua passione io direi di abbracciare tutti i centri di simulazione salutiamo Santino di nuovo salutiamo tutto il mondo intero grazie nuovamente Giuseppe quindi ragazzi nella speranza che questa intervista vi sia piaciuta ovviamente come al solito lasciate un pollice in su lasciate un commento qui sotto magari le persone che sono di Rende potrebbero lasciare un commento sul nostro Giuseppe e il suo centro di simulazione sarebbe sarebbe veramente interessante se le persone scrivessero nei commenti di dove sono vediamo un attimino come sono sparpagliati la in Italia e a chi rivolgersi magari li aiutiamo anche noi magari li aiutiamo ad avere i codici sconto può essere una bella idea dai da coordinatore scrivete qua nei commenti io sono di tale post e poi se la vede Giuseppe dice guarda che ce n'è uno che ha commentato nel video di intervista perché no potrebbe essere un qualcosa di interessante quindi ragazzi lasciate un commento diteci da dove venite e ovviamente iscrivetevi al canale Tante Gratuito da Fabrizio e Giuseppe è tutto un abbraccio ciao grazie mille ciao figurati ciao Giuseppe